Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Iniziamo con il bollettino Covid. Oggi in Abruzzo si registrano 150 nuovi positivi di età compresa tra 1 e 87 anni. 20 provengono dalla provincia dell'Aquila, 35 dalla provincia di Chieti, 38 dalla provincia di Pescara, 52 da quella di Teramo. 5 sono residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Eseguiti 8.251 test, 2.591 molecolari, 5.660 antigenici con un tasso di incidenza dei positivi dell'1,8%. Nessun deceduto, i guariti nell'ultime 24 ore sono 88. Salgono a 2.231 gli attualmente positivi, più 62 rispetto a ieri. Scendono a 59 i ricoverati in area medica, meno 3 rispetto a ieri. Invariato il numero di quelli in terapia intensiva. 12 sono invece 2.160 i positivi in isolamento domiciliare, più 65 rispetto a ieri. Prosegue la diatriba a distanza tra l'Aquila e Pescara con i politici del capoluogo che vorrebbero trasferire i pazienti al Covid Hospital. Il capogruppo di Forza Italia al comune di Pescara, Renzetti, è intervenuto nella polemica, mentre l'assessore regionale Verì ha convocato una riunione. Giuseppe Dintino. I ricoverati a causa del virus devono essere trasferiti al Covid Hospital di Pescara. La classe politica aquilana insiste per concentrare l'assistenza sanitaria nella struttura del capoluogo adriatico, costruita con un finanziamento da 11 milioni di euro proprio per far fronte alla pandemia. Ci sono più di 50 pazienti oncologici, ha detto il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, che attendono di sottoporsi a interventi sospesi a causa dell'emergenza Covid. Nella polemica si è infilato anche il capogruppo di Forza Italia al comune di Pescara, nonché primario di urologia all'ospedale Santo Spirito, Roberto Renzetti. D'accordo col trasferimento dei pazienti, dice Renzetti, ma solo se le altre ASL dovessero esaurire i posti. Quando si parla di salute pubblica lascerei da parte i campanilismi o le fughe in avanti, ma bisogna cercare di tutelare il bene del paziente e del cittadino. Ora, questo non significa che a prescindere il Covid Hospital in Pescara non debba essere pronto per eventualmente accogliere i pazienti qualora le altre ASL si trovino in difficoltà, ma non deve essere la partenza del percorso, del discorso. Non posso accettare quando il sindaco Biondi dice noi non possiamo ricoverare i pazienti perché abbiamo pazienti oncologici da operare. Vorrei ricordare al sindaco Biondi che la ASL di Pescara ha operato i pazienti oncologici nel pieno caos, nel periodo critico, ma anch'essa ha delle liste d'attese molto importanti per quanto riguarda i pazienti oncologici. La questione gira attorno al personale sanitario. Concentrando a Pescara la lotta al virus, medici e infermieri, soprattutto anestesisti, dovrebbero essere dirottati al Covid Hospital, tralasciando l'attività ordinaria del nosocomio civile. Non si può neanche pensare di poter nell'oggi e domani gravare tutto sul personale di Pescara che deve triplicare la propria attività, mentre le altre ASL si possono permettere di continuare a fare la routine. Non mi sembra corretto. Allora, se dobbiamo anche affrontare un'emergenza di questo tipo, bisogna anche pensare di riorganizzare un attimo il discorso personale. Poi, quando c'è stato il problema, il reputamento è stato fatto anche con delle iniziative in estemporanea dell'emergenza. Ora, non è che si può pensare di avere 100 anestesisti, per dire, così dico lì, un numero pronti nell'attesa dell'emergenza. Oggi l'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Veri, ha convocato una riunione con i quattro direttori generali delle ASL abruzzesi e il direttore dell'agenzia sanitaria regionale, Cosenza, con l'intento di prendere una decisione che possa mettere la parola fine alla polemica. Dopo un anno che li stiamo sperimentando, possiamo dire con ragionevole certezza che, per fortuna, i vaccini funzionano e funzionano bene. Lo dicono anche i numeri di questi giorni. In questa fase, a fronte dei contagiati, il numero dei ricoveri è di gran lunga inferiore rispetto alle precedenti ondate. Così il direttore generale dell'agenzia sanitaria regionale abruzzese, Pierluigi Cosenza, primario del reparto degenza breve dell'ospedale dell'Aquila, medico Aquilano, che fa parte del gruppo di lavoro istituito dall'Istituto Superiore di Sanità, chiamato a sviluppare un rapporto sul tema del long covid. Questo significa, continua Cosenza, che un vaccinato che si infetta non finisce in ospedale con gravi patologie polmonari. I sintomi, se si è vaccinati, o sono assenti o sono molto lievi. Del resto, osserva il medico, non è un caso che su 11 ricoverati in rianimazione in Abruzzo, 10 sono non vaccinati e l'undicesimo, tengo a sottolineare, a gravi patologie pregresse e possiamo affermare che il vaccino gli ha finora salvato la vita. A distanza di 24 ore è stato revocato il divieto di balneazione di un ampio tratto di mare di Pescara, dopo che le analisi ARTA hanno dimostrato il ritorno alla normalità dei valori. Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha firmato l'ordinanza di rimozione del divieto in via cautelativa di balneazione che interessava da 24 ore il tratto di mare prospicente via Galilei e quello 100 metri a sud dal porto turistico ed è stata notificata ai gestori di 14 stabilimenti balneari. Le analisi microbiologiche condotte dall'ARTA hanno dimostrato che i parametri erano al di sotto dei limiti di legge, pertanto con piena conformità. Il provvedimento era stato emesso in conseguenza di uno scarico anomalo nelle condotte fognanti che affluiscono al depuratore tra la sera e la notte del 18 agosto e quindi nelle prime ore di giovedì. Il campionatore posto all'ingresso dell'impianto aveva immediatamente segnalato l'anomalia sul processo di depurazione. In particolare sono rientrati nei parametri di legge i valori di Escherichiacoli, 175 su un valore massimo di 500 mpm per 100 millilitri ed Enterococchi intestinali, 31 su un valore massimo di 200 mpm su 100 millilitri che ieri avevano superato i limiti nelle acque marine antistanti alla foce del fiume Pescara. Tali dati sono stati poi trasmessi al Comune e hanno permesso al Sindaco di ripristinare la balneabilità del tratto di mare. Rientriamo pertanto nella totalità dei criteri che ci sono valsi la bandiera blu, ha dichiarato il primo cittadino Carlo Masci. Ha ulteriore dimostrazione che il lavoro fatto per la salubrità del mare è stato capillare e radicato e persino un evento eccezionale è stato assorbito in pochissimo tempo. Resta il fatto che l'accaduto dimostra che la sensibilità ambientale è sì diffusa ma evidentemente non abbastanza per impedire che si verifichino episodi di inquilamento che denotano invece spregiudicatezza, irresponsabilità e disinteresse per il bene comune. I sindacati chiedono più sicurezza al carcere di San Donato dopo la doppia evasione dei giorni scorsi. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Segretario, quello che è accaduto nel carcere San Donato di Pescara ovviamente induce a delle riflessioni. Possiamo dire che ci sono diverse problematiche che riguardano il San Donato? La prima, la carenza di organico ma non solo. Sì, le problematiche sono molteplici e come abbiamo iniziato a segnalarle dal maggio 2019 dove io ricordo benissimo che con Sit-in già ci siamo resi conto che le problematiche che c'erano allora saremmo arrivati a ulteriori problemi perché chiaramente la carenza di personale, il personale che continua ad andare in pensione, il suo raffollamento, sono tutte cose che chiaramente poi portano a questi risultati. Purtroppo siamo stati disattesi, nessuno ci ha ascoltato, noi abbiamo fatto vari incontri anche col prefetto due volte, siamo stati in regione all'Aquila, adesso leggevo giorni fa che anche il governatore ha fatto una missiva al ministro sperando che qualcuno ci ascolti e che si renda veramente conto di quelli che sono i problemi di questo istituto. Quanti sono gli agenti che mancano nel carcere di Pescara? Adesso siamo oltre le 50 unità, quindi se lascio immaginare su una pianta organica di 167 unità ne mancano più di 50, quindi è facile capire che il problema è serio. Ma poi oltre al fatto delle 50 unità, un problema ancora più importante è che questo personale è tutto personale superiore ai 50 anni, quindi un personale ormai già si può dire stanco perché giustamente l'età è quella che è. Poi c'è anche una problematica di ordine strutturale, questa è una struttura vecchia e ci sono tra l'altro dei lavori in corso. Sì, è una struttura molto vecchia che chiaramente ha le sue peculiarità anche per quanto riguarda il discorso di sicurezza, con un muro molto basso, ci sono molte cose che chiaramente non funzionano proprio per quanto riguarda la sicurezza dell'istituto. è normale che poi se uno basta che si faccia un esame di coscienza, se un detenuto in tre minuti riesce a stare al di là dei muri di cinta e andarsene, quindi si capisce che ci sono dei problemi strutturali. L'amministratore giudiziario della società delle terme SRL ha depositato al Tribunale di Pescara l'istanza di fallimento della società che ha gestito le terme di Caramanico. Ora si apre una nuova fase, vediamo. L'amministratore giudiziario della società delle terme SRL, Guglielmo Lancasteri, per il tramite dell'avvocato Michela Di Orio del Foro di Pescara, ha depositato al Tribunale di Pescara l'istanza di fallimento della società che per anni ha gestito le terme di Caramanico in pianto, fermo ormai da circa un anno. La società, si legge nell'istanza, non è in grado di soddisfare da tempo le proprie obbligazioni come risulta da bilanci e situazioni contabili dal 2017 al primo trimestre del 2021. Il Tribunale di Pescara, si ricorda, ha anche emesso numerosi decreti ingiuntivi a carico della società il cui deficit patrimoniale ammonta a circa 6 milioni di euro. In più i 13 dipendenti non percepiscono lo stipendio dal 2019 senza considerare poi che la struttura termale che dava lavoro anche a circa 150 stagionali è assolutamente necessaria per il tessuto economico e industriale dell'Abruzzo. Al Tribunale si chiede di dichiarare il fallimento della società delle terme SRL e di valutare di conseguenza l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio tramite conduzione di imprenditori terzi, anche alla luce della dichiarazione resa dal direttore generale di Federterme, organizzazione di categoria di Confindustria, che ha sottolineato l'importanza della struttura nel territorio sotto molteplici profili. In effetti la definitiva interruzione, si spiega, potrebbe arrecare un danno grave non solo agli impianti termali che già senza manutenzione rischiano di andare in malora ma anche alle strutture alberghiere di Carmanico Terme utilizzate da molti dei circa 15 mila utenti annuali dell'impianto nonché all'intera comunità abruzzese. Il Tar dell'Aquila ha deciso di sospendere l'avvio della stagione della caccia fino all'8 settembre al fine di tutelare la fauna selvatica soddisfatte le associazioni ambientaliste. Calendario venatorio sospeso in via cautelare fino all'8 settembre quando vi sarà la discussione in merito. Il Tar dell'Aquila ha deciso di rimandare l'apertura della stagione di caccia a seguito del ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste. È interessante vedere come lo stesso Tar abbia evidenziato che la conservazione della fauna selvatica deve essere una priorità rispetto ad altri interessi più di parte. Le criticità presenti nel calendario venatorio della regione Abruzzo sono essenzialmente dovute ad alcune preaperture in particolare quella alla tortora selvatica che sia l'ISPRA che l'istituto che dà i pareri per i calendari venatorio nel nostro paese, ma anche il Ministero avevano cercato di impedire con una moratoria. La tortora selvatica è una specie in forte declino e ha bisogno di azioni di conservazione e non di ulteriori prelievi venatori. Ma sono anche altre le aperture riferite ad altre specie ornitiche che la stessa ISPRA aveva consigliato di iniziare il 2 ottobre. Il Tar, dice quindi il WWF, sancisce un importante principio. L'interesse prevalente deve essere quello della tutela e della conservazione della fauna selvatica. L'associazione poi va all'attacco per quanto riguarda il Parco Nazionale di Abruzzo e Molise dove una delibera di giunta regionale limita la caccia nelle aree contigue. Manca ancora una definizione dell'area contigua del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise che la regione in qualche modo dimentica di aver istituito. All'interno delle aree contigue la caccia deve essere permessa solo ai cacciatori residenti. Insomma, spiace constatare che anche quest'anno si debba decidere di una materia così delicata come quella della gestione venatoria nei tribunali e con i giudici invece di preparare un discorso e un confronto più istituzionali e più su dati scientifici. La soprintendenza archeologia, bellearti e paesaggio ha chiesto al presidente della provincia di Chieti la rimozione del manufatto in cemento realizzato a Fossa Cesia sul lato mare del tracciato ciclopedonale della Via Verde di fronte alla vecchia stazione nella zona nord del litorale dopo la sua costruzione. Un anno fa anche il sindaco di Fossa Cesia, Enrico Di Giuseppe Antonia aveva più volte sollecitato l'amministrazione provinciale a procedere all'abbattimento del volume in cemento. In uno dei passaggi della lettera della soprintendenza si legge si tratta infatti di una costruzione che indipendentemente dalla tipologia e dalla finitura conclusiva che la caratterizzerà impatta per la posizione che occupa in un tratto che consentiva finora la libera fruizione del visuale a mare. Si chiama Ludoteca Taxi Clown l'iniziativa patrocinata dalla Polizia di Stato è rivolta a bambini e anziani. Vediamo il servizio. In Piazza della Rinascita a Pescara c'è il camper Ludoteca Taxi Clown vogliamo spiegare a cosa serve questo camper cosa state facendo qui a Pescara in questi giorni? È una sorta di taxi sanitario funge appunto da taxi per accompagnare i piccoli pazienti o anche gli anziani o comunque chi ne ha bisogno in quelli che sono i trasporti e i ricoveri fuori sede. È chiaro che ha bisogno di tutti i presidi ospedalieri e quindi è una sorta di autombulanza e chiaramente una cosa è che il bambino sale appunto sull'autombulanza è una cosa che sale su questo fantastico camper pieno di giochi e pieno appunto di divertimenti per cui lui non capisce diciamo che sta facendo una cosa importante ma pensa che sia una gita e quindi ci sono i medici, infermieri, la famiglia insomma è un bel progetto Una iniziativa patrocinata anche dalla Polizia di Stato? Patrocino del Ministero dell'Interno, dalla Polizia di Stato e orgoglioso chiaramente di girare tutta Italia siamo stati sul lago di Garda, siamo stati a Lignano, Sabbiadoro e appunto arriveremo a Pozzallo, giù in Sicilia dove c'è lo sbarco degli immigrati Questo splendido barboncino è protagonista di questo progetto? È un maltese, lui ha fatto il corso di pet therapy e chiaramente ha tutte le autorizzazioni e le certificazioni per poter entrare nelle strutture Oggi più che mai c'è bisogno di queste iniziative? Soprattutto in questo periodo post, chiamiamolo post Covid ma io direi ancora durante questa pandemia ancora in corso abbiamo avuto chiaramente un successo enorme e la Polizia appunto quando ci fermava ai posti di blocco faceva il saluto militare mi faceva venire la pelle d'oca questa cosa perché dicevano Dottore lei cura l'anima delle persone per cui può andare, può andare abbiamo avuto chiaramente il Green Pass il mese di gennaio già abbiamo fatto tutte e due le dosi prima e seconda dose anzi fra poco dobbiamo fare la terza visto i tempi e insomma è stato un anno brutto da un certo punto di vista per me bellissimo perché abbiamo lavorato tantissimo abbiamo avuto veramente tanto successo domani sera carrerà il sipario sulla 39esima edizione dello Spoltore Ensemble grande successo per Mimmo Locasciulli e Setac vediamo grande concerto a Lago San Giovanni per Spoltore Ensemble Mimmo Locasciulli 19 album tanti anni di carriera a fianco di Setac un talento abruzzese nuovo potremmo dire padre e figlio anche in senso bonario così si passa il testimone a una nuova generazione beh sarei molto contento se fosse più di un testimone nel senso se fosse l'inizio di una folgorante carriera perché è bravo a sentimento un bravo musicista mi piace come canta e fare un concerto così che è molto inusuale io sono più un cantautore pop lui ha qualcosa di etnico qualcosa anche di folk però c'è questa radice comune che è diciamo quello che ci di cui ci siamo nutriti nella nostra terra che non si di me non va via quello che ci ha dato la nostra terra noi riusciamo a rendere in canzone nella nostra sensibilità con la nostra sensibilità perché c'è il marchio c'è il marchio di questa terra c'è il marchio di questi tempi che viviamo in maniera diversa io ho visto molto del mondo lui ancora ne deve vedere tanto però io gli auguro veramente ogni fortuna perché è bello fare un concerto con lui la lingua brussese può diventare una lingua musicale a tutti gli effetti non di nicchia beh lo è lo è nel senso che ha questa particolarità come l'inglese di avere poche sdruccele e molte tronche quindi si presta molto bene al ritmo della parola certo insomma il dialetto in qualche modo è colonizzato dal napoletano un po' dal romanesco però non lo so potrebbe essere se qualcuno ne riconosce e ne intuisce diciamo l'importanza descrittiva ritmica metrica soprattutto con un artista come Nicola potrebbe essere un bel trampolino di lancio tanto entusiasmo tanto calore per questo passaggio il testimone Mimolo Caciuri presenta un po' la tradizione la canzone d'autore italiana che non ha mai dimenticato l'Abruzzo poi ci sei tu con la tua freschezza ma con un grande attaccamento alle tradizioni cosa potrebbe sembrare stare per un giovane che invece si americanizza o ad altri modelli come mai? beh hai detto bene proprio tu adesso cioè noi sogniamo sempre col sogno ci abibiamo soprattutto noi musicisti col sogno americano saremmo tutti voluti nascere magari a Londra o New York insomma a un certo punto della mia carriera ho deciso ero orgoglioso che sono orgoglioso di essere nato in Abruzzo e quindi volevo mescolare le mie radici con la musica che mi interessa quindi ecco sono la persona più felice del mondo io ci tengo sempre a specificare che non faccio musica per abruzzesi cioè è il dialetto è la musica che si porta presso il dialetto a me piace la sintesi musicale e la sintesi tra diversi generi quindi mi interessa tantissimo l'oriente il sud del mondo il blues il folk americano quindi ecco mi piace l'idea di mescolare tutte queste realtà e ora la pagina dello sport interamente dedicata alla Coppa Italia perché sta per concludersi il match del Bonolis tra Teramo e Monterossi primo turno di Coppa Italia di Serie C lo vedete dalla nostra sovrimpressione Teramo che è avanti di due gol sulla squadra della Tuscia andiamo in collegamento dello stadio Bonolis proprio con Agna Cantagalli buon pomeriggio Agna anzi direi buonasera Andrea buonasera a voi si è chiusa proprio qualche secondo fa il primo impegno speciale della stagione per il Teramo che batte 2-0 il Monterossi nel primo turno del minatorio di Coppa Italia quindi attenderà nella vincente tra Siena e Fermana che si sta ancora giocando per conoscere insomma l'avversario del secondo turno del prossimo 15 settembre una pratica di brigata dal Teramo nel corso del primo tempo con una doppietta segnata da Birligea prima al 18esimo e poi al 39esimo che praticamente hanno fatto chiedere la pratica per l'appunto già nella prima frazione Monterossi che ricordiamo è una formazione neopromossa e che quest'oggi ha messo in evidenza ancora diversi limiti la necessità soprattutto di mettere nuovi investi per cercare insomma di essere un po' più preparata allo salto di categoria in questo scenario comunque il Teramo si è espresso bene i due gol del primo tempo sono arrivati dall'asse lungo Birligea nell'occasione della prima marcatura si è messo anche l'uncantino Chierimatenka che è andato in attrazione sul capitano del Monterossi buono che ha perso palla e poi il pallone che è arrivato a lungo proprio per il gol facile di Birligea che non ha fatto altro che spingere il pallone in rete per quanto riguarda la seconda marcatura invece ci sono adesso nel frattempo intanto i giocatori del Teramo stanno salutando la tiposeria organizzata bianco-rossa che è assietata all'esterno dello stadio che tra l'altro Andrea ha anche intonato dei cori contro il presidente Franco Iachini nel corso di questa gara ricordiamo che c'è una frattura abbastanza evidente ormai da da tempo da settimane proprio con il massimo dirigente bianco-rosso in una parte della tiposeria del Teramo vi dicevo comunque del secondo gol bianco-rosso della formazione di Guidi quando Mungo ha servito sulla corsa in velocità di Birligea ha messo a terra un giocatore del un difensore del Monterossi Borri nello specifico che poi si è anche lamentato di un presunto fallo che poi il direttore di gara effettivamente non ha ravvisato e Birligea è stato bravo anche in questo caso a infilare Marciano per il secondo gol del Teramo la ripresa è stata sostanzialmente giocata in controllo per la formazione di Guidi il Monterossi ha cercato di manovrare un po' più il pallone ma non si è reso praticamente mai pericoloso non impegnando Baitozzo perché Andrea questo è magari il più grande inizio di mercato della giornata Valentini non è tra elenco non è stato inserito nell'elenco dei convocati quindi è un indice evidente di una partenza almeno per volontà del Teramo ricordiamo che comunque Valentini ancora un anno di contratto con il Diavolo quindi se troverà altre formazioni si accaserà prima del 31 agosto altrimenti rimarrà comunque a Teramo per questa stagione due note sugli ultimi arrivati Malotti è partito titolare al posto di K e mi riferisco come metro di paragone alla formazione che è scesa in campo una settimana fa nel test contro il Castelnuovo c'è ancora da lavorare per l'esterno dal punto di vista della condizione anche se qualcosa di buono col mancino ha fatto già vedere Bernardotto ne ha preso il posto nella ripresa con Guidi che ha spostato di conseguenza che l'Igea a fare l'esterno attacco e Bernardotto il centravanti comunque una buona prova generale oltre che passaggio per il terreno quest'oggi contro il Monterosi una buona prova generale vi dicevo in ottica Virtus Entella perché sabato prossimo poi ci sarà l'esordio in campionato per la formazione bianco-rossa altra nota magari tattica che poi forse è un pensiero di Guidi che magari anche gli chiederemo nel postchiara al momento di alcuni cambi Fiorani e Cucurullo dello specifico nella ripresa a un certo punto Bungo è stato spostato sull'esterno destro alto quindi magari anche una soluzione sulla quale sta lavorando il tecnico bianco-rosso quello di utilizzare Bungo non solo con Mezzala ma anche come esterno d'attacco ecco intanto Agna sull'altro campo a Siena pareggio del Siena contro la Fermana siamo al 65esimo da questa partita uscirà fuori l'avversario del Teramo il prossimo 15 di settembre è un Teramo che qualche certezza dallo scorso anno se la porta soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva dalla cintola in giù perché sono rimasti alcuni pilastri come ad esempio Arrigoni come Mungo che quest'anno dovrebbe trovare molto più spazio in difesa ai vari soprano Piacentini ma anche Trasciani che è una validissima alternativa ecco si può dire che da questo punto di vista Guidi può avere un po' più il lavoro facilitato e tutto il resto che poi bisogna migliorare oltre che la squadra va evidentemente completata vanno inseriti diversi altri tasselli Sì come tra l'altro ha detto anche il tecnico ieri alla vigilia in uno specifico mancano le coppie con Osmanovic e Rillo per due esterni bassi manca probabilmente anche un altro esterno d'attacco se non due da quello che insomma filtra dalla società bianco-rossa e secondo me si tornano anche delle valutazioni per quanto riguarda il centrocampo soprattutto per il vice Arrigoni che attualmente è sorricchio per quello che si vede insomma negli allenamenti però parliamo di un ragazzo di 15 anni che ovviamente ha necessità di crescere di lavorare anche fisicamente i mezzi li ha ma insomma ha bisogno di lavorare quindi valutazione sul centrocampo credo che poi alla fine lo staff tecnico con il direttore sportivo Musa se la terrà fino alla fine come dicevi bene tu però sì la difesa è un punto fermo di questo teramo soprano e piacentini sono i due che in questa prima fase di stagione sono i cardi insomma su cui Guidi vuole ne vuole poggiare ma ci sono anche delle tendative valide come Trasciani che ha fatto vedere nell'ultima parte di stagione scorsa insomma che può essere un elemento molto affidabile in tal senso a Zosmanovic in crescita nel secondo tempo come è stato contro il Castelnuovo una settimana fa Rillo ha fatto vedere di essere meno timido rispetto all'uscita nell'ultima nell'ultima nell'unica amichevole giocata dal Seramo e mi sento di sottolineare anche la buona prestazione di Viero quest'oggi lui è un altro Andrea sappiamo che insomma il primo anno a Teramo è stato forse caricato anche di troppe aspettative non è riuscito a rispondere a pieno insomma rispetto a quello che possono essere le sue qualità che indubbiamente ha questa è una stagione importante per Viero l'ultima da contratto con il Teramo e credo che sia anche la stagione nel rilancio per quello che si è visto quest'oggi insomma sta rispondendo bene anche dal punto di vista mentale Agna in meno di un minuto perché poi dobbiamo chiudere il mattatore di questa giornata Birligea doppietta si è parlato molto dell'arrivo di Bernardotto Birligea già lo scorso anno era impredicato di partire poi è stato rimesso dentro dal tecnico Paci ha fatto quel gol a Palermo ha avuto altri problemi di natura fisica che ne hanno interrotto l'ascesa lui evidentemente vuole prendersi dello spazio e lo vuole soffiare chissà magari proprio a Bernardotto a meno che non si ricicli da esterno però ha lanciato oggi un messaggio ben preciso a Guidi sì assolutamente sono d'accordo sarà difficile far sedere questo Birligea per Guidi soprattutto per quanto riguarda insomma anche la capacità di concretizzare perché insomma negli ultimi negli ultimi due stagioni abbiamo visto quanto il Teramo avesse bisogno di un qualcuno lì davanti che trovasse con maggior feeling la porta Birligea in tal senso sembra aver iniziato bene la stagione si spera ovviamente in casa del Teramo che possa essere assistito anche da una condizione fisica ottimale nel senso di non incappare in nuovi infortuni però l'unica poi soluzione per tenere in campo sia Bernardotto che Birligea sarebbe quello di spostare appunto Birligea verso l'esterno perché poi quando Birligea entrerà in condizione avrà settimane di lavoro con la squadra sarà complicato a tenerlo fuori va bene Agna grazie grazie e buon lavoro a voi in questa edizione del TG6 ci sarà il servizio confezionato proprio da Agna Cantagalli anche le dichiarazioni del tecnico Guidi e noi possiamo chiudere qui questa edizione del TG6 ovviamente vi ricordo alle ore 23 il prossimo appuntamento con la nostra informazione vi ricordo anche che tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma youtube oppure sul sito www.tv6.it grazie per l'attenzione e buona serata grazie per la visione